Grazie, grazie, grazie di cuore, io stasera volevo parlare in verità dei film, perché ci sono nella cinematografia italiana veramente dei capolavori unici, come un capolavoro secondo me sono i film di Mario Merola, perché se ci fate caso, i film di Mario Merola è sempre il stesso, si festeggia, rindano il ristorante, ha comunione uno figlio di Mario Merola, di Guaiono si ha fatto quindici comunioni, che so dove c'è una palazzina e una macchina che aspetta, basso il palazzo, si festeggia a un ristorante la comunione del figlio di Mario Merola, quando a un certo punto entra una banda di banditi, spengono la luce e iniziano a sparare all'impazzato, appiccione la luce e è morto solo figlio di Mario Merola, mio padre non è che c'è un malambulanza no, è attaccandato, un creatore che sta muorendo, papà mi sono morto, aspetta, papà dai una canzone, aspetta un momento, per dire quale frase? Oh zappatore, non si ascolta mamma, che buono, c'è un cofravvocatore e non fa tempo!